Eccoci qui ragazzi bentornati come state, un saluto a tutti, gli auguri vanno subito a Sheva, grandissimo, uno dei miei preferiti di sempre, grande Andri che illumina anche la nostra stanza e al nostro vecchio presidente Silvio Berlusconi che appunto compie gli anni come Sheva, auguri anche a tutti voi cuori rossoneri che oggi festeggiate il compleanno. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi qui in questa zona e a scaricare gratuitamente l'app di numero 10 dal link qui sotto, ci siamo anche nuove esclusive Lavi Calciomercato e in palio due biglietti per Mina Juve, mettetevi d'accordo con un amico, scaricatela e ci sono in palio anche tanti altri premi tra cui appunto la maglietta del Mina, personalizzabile con il giocatore che volete. Partiamo subito, tema rinnovi ovviamente in attesa che finalmente lo possiamo dire dopo domani, tra qualche ora torni il nostro caro amato a Cimilano, sarà un sabato importante perché prima giocherà la seconda squadra di Milano contro la Roma, lì è una partita sicuramente da vedere, godibile e poi scendiamo noi in campo con l'Empoli, gara da non sottovalutare ovviamente e che bisogna vincere per forza di cose, dopo purtroppo il passo falso prima della sosta. Ci appelleremo anche a, vedete qui, il subbuto, la nostra mascotte, il subbuto di Marco Van Basten, ma andremo subito nel vivo del video con in questa fase tante indiscrezioni che si rincorrono, parliamo ovviamente di Rafa Leao, ma ci sono anche situazioni da analizzare perché spesso lo stato d'animo del tifoso dipende un po' anche da quello che gli viene raccontato e da come gli viene raccontato. Nulla mi toglie della testa, mi ci metto anch'io, quel periodo tra maggio e giugno in cui la propaganda nerazzurra ci aveva raccontato nell'ordine che, oltre Lukaku, sarebbe arrivato Dybala. Oltre Dybala sarebbe arrivato Bremer, oltre a Bremer sarebbe rimasto anche Skriniar, cose che evidentemente sappiamo non sono successe. Dybala non è arrivato, Bremer non è arrivato, ci dicevano addirittura arriverà Bremer e Skriniar resterà. Skriniar è rimasto ma non ha rinnovato, ma vedrete che se poi resta il PSG un secondo dopo rinnoverà, a oggi non ha ancora rinnovato. Con il risultato che in quella fase, io ricordo, eravamo tutti in ebollizione, perché il Milan sembrava non spendere e gli altri invece, caspita che squadra faranno. Loro al settimo cielo, noi un po' depressi, alla fine ci siamo depressi per nulla, nel senso che alla fine quei giocatori non sono arrivati e sì, hanno preso Lukaku, che però oggi non si è ancora visto, salterà anche la Roma e forse la Champions, ed è le seconde linee. Quindi il cavallo vincente lo si vede sempre a traguardo, ricordiamocelo tutti e pensiamo a questo. Però vedete come lo stato d'animo cambia a seconda di quello che viene scritto e raccontato. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è il principale quotidiano sportivo, oggi secondo me va sulla linea del sempre peggio. Intanto, come vi raccontavo ieri sul mio canale personale, vi potete scrivere qui sotto, vi metto il link, qui su YouTube, l'altro ieri avevano fatto un titolo, l'Inter sì che vuole bene all'Italia, a differenza evidentemente di Milano e Juve, perché l'Inter fornisce giocatori che sono stati utilizzati. Ignorando che la Juve li fornisce, li ha forniti per tanti anni, il Milano li fornisce. Quindi un titolo davvero da Gazzetta Nerazzura, non so, da Inter Channel, che c'è stato un paio di giorni fa. Ha fatto un po' arrabbiare tanti, lo so, anche il club non è piaciuto. Tant'è che poi è arrivata anche una mezza modifica nella descrizione. Oggi la prima pagina della Gazzetta, Piaccio oppure no, primo quotidiano sportivo in Italia, titola con, da una parte, Skriniar, dall'altra parte sotto, non l'Ottaro, Leao. Zanga ai dirigenti, Skriniar deve restare all'Inter. Skriniar, ecco i soldi. Il presidente con gli oltre 100 milioni di finanziamento dà l'ok per prolungare con il difensore e respingere così il PSG. Calma. Poi, un piccolo trafiletto, Lukaku ha altro rinvio che salta la Roma e forse rischia pure il Barça, così sta fuori da una vita, ma va bene, piccolo trafilettino. E Milan, per Leao, ne servono 65. La società fa i conti, quanto costa tenerlo, ingaggio, indenizza lo Sporting, la minaccia di Chelsea e City, il rinnovo di Rafa si complica. Il tempo comincia a stringere, quindi da una parte la verità raccontata è che Skriniar adesso è tutto a posto. Sono trovati i soldi, va bene, ignorando che quei soldi servono invece per portare avanti il club, che ha perso, notizia di ieri, 140 milioni di euro. Che è una situazione, dal punto di vista economico-finanziario, molto complicata. I 100 milioni servono per vivere la quotidianità, per pagare anche gli stipendi, per dare un po' più di respiro, non per rinnovare Skriniar. Dall'altra parte il rinnovo si complica. Un paio di giorni fa, Maldini, che è uno che non regala facili fantasie, ma da solide realtà, dice che è fiducioso sul rinnovo del contratto. Maldini, che tende sempre a tenere un profilo basso a livello comunicativo, dice che siamo fiduciosi, quasi ci mette la faccia e fa capire che rinnoverà. Però per la Gazzetta il rinnovo si complica. Cosa è successo in un paio di giorni? Esattamente nulla. Anzi, abbiamo scoperto che il Milan comunque sta parlando anche con lo Sporting per cercare di ottenere uno sconto sul risarcimento che Leao deve allo Sporting, che a oggi è tutto suo. Avevano trovato un accordo qualche mese fa con l'indennizzo in parte pagato anche da Lille, poi è saltato perché Leao non voleva pagare una certa parte, quindi oggi da sentenza deve pagare tutto il giocatore. Ma non è successo esattamente nulla. Ora, il Milano è un club che perderà 40 milioni di euro, che ha un futuro sostenibile, che non sta con le pezze in quel posto, scusate l'espressione, ma rende molto l'idea. Dall'altra parte su Skriniar va vista anche la scadenza, cioè ignorare che lui tra pochi mesi potrà firmare gratis per il PSG non è bello. Qui non si fa neanche menzione dell'offerta vera del PSG. Il PSG gli ha offerto qualcosa come 9 milioni di euro ed è disposto ad arrivare a 10. L'offerta dell'Inter arriverebbe a 6,5? Capite che c'è un margine clamoroso, quindi sembra che siamo parlando di euro. Se uno arriva da Marte e arriva oggi, andiamo in edicola, vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Skriniar ecco i soldi, Milan per Leao ne serve 1,65 e il rinnovo si complica. Quindi Skriniar rinnoverà, hanno trovato i soldi, è fatta. Per Leao invece è difficile. Ignorando una cosa, ripeto, scadenza Skriniar 2023, tradotto tra pochi mesi, il primo febbraio, lui può firmare gratis per il PSG ed ha un'offerta concreta in mano da 9,10 milioni di euro. Leao rinnovo si complica ignorando che Leao non ha il contratto scadenza nel 2023, ma nel 2024, quindi tra quasi due anni. Non lo so, qualcuno dirà, beh, ma noi che ci va in tasca. Eh no, va in tasca sì, va in tasca sì, perché lo stato d'animo cambia, ma anche dei giocatori stessi, perché i giocatori ascoltano le tv, leggono i giornali, vanno anche su YouTube. E quindi, in questo caso, dalla parte di Skriniar ci può essere più armonia. Ma in ogni caso, pensiamo a noi, su Leao, che già a livello psicologico un fardello legato a quel risarcimento che lui deve allo Sporting, l'ha detto Paolo Maldini, non me lo sono inventato io, c'è un ulteriore peso. Milano rinnova, troppi soldi, risarcimento, eccetera, eccetera, situazione caotica. Non lo so, a me questa cosa, sinceramente, dà un po' fastidio. E quando dico che non bisogna in una stagione lasciare nulla al caso, intendo anche che l'aspetto comunicativo è sempre più importante. Oggi la comunicazione è davvero una parte del calcio, piaccio oppure no. Rispetto ai protagonisti stessi, a rispetto anche a chi vive, cioè il popolo, i tifosi, la passione e il tifo. Mi sembra, ecco, una realtà raccontata oggi molto distorta rispetto alla realtà, che descrive l'Inter, quindi, come una società che sta bene, che ha trovato i soldi, che può rinnovare Skriniar magari a 9-10 milioni offerta del PSG, che tanto non scade dopo domani, mentre le AO, eh, le AO è difficile. Ieri hanno chiuso il bilancio a 140 milioni di euro e oggi la notizia è che hanno trovato i soldi. Dai ragazzi, se non è una presa in giro questa, ditemi voi che cos'è. Lì probabilmente ci sono anche i buoni rapporti, quello che filtra, eccetera, eccetera, però un buon servizio oggi, ripeto, dal principale quotidiano sportivo e Skriniar l'Inter, situazione economica, allarme rosso, e sulle AO il Milan prova a trovare la soluzione. Il rinnovo si è complicato in due giorni perché? Perché l'altro ieri, ma lì dice, sono fiducioso e oggi si è complicato? Perché Skriniar non ha ancora rinnovato e scade tra pochi... Ecco, su Persic, ricordate, Persic tranquilli, si fa, eccetera, eccetera, Persic, ciaone. Però loro su Persic erano contenti, noi disperati perché sì, alla fine guardate quanto sta mancando Persic a loro, perché poi sembra solo noi perdiamo i giocatori a zero. Vediamo come va a finire con Skriniar. In ogni caso, se va via a gennaio, a metà del prezzo che avevano ricevuto come offerta a dicembre, è comunque un fallimento di Marotta. Se va via poi in estate a parametro zero, non parliamone proprio. Però intanto la Gazzetta dirà ottima operazione, eccetera, eccetera. Mi ha dato un po' fastidio, sempre peggio da questo punto di vista e bisogna fare attenzione a tutto. Ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi qui, lasciate un bel like, vi rimando i video di oggi e scaricate l'app di numero 10 dal link qui sotto. Mi raccomando, un paio di biglietti per Mina Juventus, potete andare col fidanzato, la fidanzata, fratello, sorella, papà, figlio e la maglietta di Mina personalizzabile con il giocatore che volete. Tra l'altro, Skylari ha detto una cosa intelligente, ha detto, anche perché si chiama Milan, a differenza di tanti negazionisti, lo scudetto Milan se l'ha meritato, avevano tante partite difficili, ne hanno vinta una dietro l'altra. Qualcuno impari, un saluto. Primordiale